Appena finito il Gran Premio di Olanda la gara pazza di Zandvoort, sarebbe meglio dire con una pioggia che va e viene durante i 72 giri della manifestazione olandese con valori in campo che vengono sballati soprattutto nelle posizioni a ridosso del podio tra qualificazione e inizio gara, insomma una gara che qualche spunto lo ha dato dopo appunto l'ultimo GP del Belgio che aveva concluso la prima parte di stagione, ora appunto siamo ripresi con le ostilità con la gara di Zandvoort, pausa estiva che appunto sbilancia qualche valore per il podio compice appunto alla gara pazza di Zandvoort non cambia però il vincitore ovvero Max Verstappen che anche a casa sua ovviamente vince e vince per la nona volta consecutiva eguagliando il record di Sebastian Vettel del 2013 sempre su Red Bull, qualche episodio però c'è evidentemente da analizzare in particolare la partenza, una partenza avvenuta con condizioni di pioggia che effettivamente va un po' scombustolare a metà della griglia perché erano condizioni incerte, parte del gruppo parte con le rosse gomme da asciutto morbide, parte del gruppo parte con le intermedie perché molte persone rientrano ai box al primo giro per provare a avere l'azzardo e uno di questi è Sergio Perez che incredibilmente ci prende, la pioggiarella però dura poco perché parliamo di dieci giri, si rientra tutti all'undicesimo giro e appena arriva l'asciutto con un po' di umidiccio, primo incidente, prima safety car, Logan Surgeon che comunque ha fatto un'ottima prestazione in qualificazione ma tutta la Williams in generale abbiamo visto in palla qui in Olanda, ci schianta e di fatto dice addio alla possibilità di prendere i primi punti in carriera, parliamo comunque di un pilota le primissime esperienze in Formula 1, Logan Surgeon è uno dei pochissimi rookie in questa stagione di Formula 1 dei titolari senza contare evidentemente Liam Lawson che ha esordito in questo GP la gara poi dalla parte centrale non ha di che evidentemente raccontare se non appunto il ritiro di Charles Leclerc è un po' dovuto al contatto avuto all'inizio gara con una McLaren, un contatto avvenuto alla curva Audi, la chicane in uscita di curva 12, Leclerc appunto va a sbattere, diciamo a avere un contatto meglio con il suo avversario che evidentemente non gli lascia così tanto spazio, Leclerc rompe l'ale alla fine viene soprato da tutti e si dovrà ritirare nel frattempo succede una strategia che penalizza Perez che era arrivato dopo aver cambiato le gomme intermedie per primo in prima posizione nel speed stop tradizionale però viene diciamo scavalcato da Verstappen complice un mega undercut possiamo chiamarlo così dell'olandese sul messicano ma appunto in realtà sappiamo che in Olanda era scontato che vincesse Verstappen quindi questa cosa non ha suscitato in me grande perplessità e sorpresa a un certo punto però negli ultimi giri finali la pioggia arriva ancora una volta e succede evidentemente l'irreparabile Perez va a lungo, molti piloti escono in curva 1 e appunto in curva 1 Guanyo Joe va a muro per questo episodio e per tutta la grande pioggia che stava arrivando Guanyo Joe va già alle gomme intermedie ma non riesce a controllare la macchina, finisce dunque a muro e appunto complica le cose mettendo una bandiera rossa, bandiera rossa che appunto ripristina tutto il gruppo e quindi ultimi giri evidentemente di fuoco in quel momento la situazione era Max Verstappen primo, Fernando Alonso secondo e Sergio Perez almeno alla ripartenza terzo con Carlos Sainz, Luis Hamilton e tutti gli altri piloti, Pierre Gasly evidentemente in lotta per le posizioni del podio a un certo punto la gara riprende, due giri sotto Fetticar si riparte con la green flag, bandiera verde e ovviamente non cambia la situazione l'unica cosa che scombuscelerà il valore sarà una pedalizzazione data evidentemente a Sergio Perez per aver accelerato in pitlane e aver superato i limiti di velocità, tutto questo per dire che appunto non cambia la sostanza vince ancora una volta Max Verstappen, non una vittoria consecutiva ma in Olanda evidentemente era scontato che vincesse ancora una volta il pilota olandese, ora qualcuno potrebbe evidentemente aver delle polemiche aver delle opinioni giustamente diverse dalle mie per quanto riguarda l'undercut fatto nei confondi di Sergio Perez era una cosa evidentemente scontata e mi verrebbe da dire non necessaria perché nonostante appunto c'è stato questo scambio di posizioni telefonato in pitlane, Verstappen avrebbe vinto lo stesso aveva un passo comunque molto importante sia sull'asciutto sia sul bagnato rispetto a tutti ricordiamo che nelle condizioni appunto che andavano via via da asciugandosi Verstappen ha dato un secondo e tre al suo compagno di squadra che guida la stessa macchina e di conseguenza era abbastanza scontato che vincesse il pilota olandese a maggior ragione a Zandvoort che è un contesto conosciuto dal oramai tre volte campione del mondo e dico tre volte perché appunto la classifica del campionato la vediamo tutti non la vittoria consecutiva per Max Verstappen, suona ancora una volta Elfield Helmus per lui, 339 punti totali contro i 201 di Sergio Perez un vantaggio assolutamente irraggiungibile per chiunque evidentemente già oltre il giro di boa del campionato quello che comunque sorprende è che Zandvoort ha regalato una gara interessante nonostante sia un pistino molto tecnico dove non si supera il podio è comunque importante perché torna dopo tempo immemore Fernando Alonso sul secondo gradino del podio è uguale al miglior risultato stagionale con un Aston Martin che non do meno con il pilota spagnolo è stato sicuramente più competitivo rispetto alle altre volte quindi una macchina verde assolutamente in crescita e arriva alla più grande soddisfazione della stagione invece per Pierre Gasly al primo podio in stagione con la nuova scuderia ricordiamo che Gasly l'anno scorso era in Alfa Tauri ha fatto una grande gara, Pierre Gasly si è inventato anche dei sorpassi all'esterno alla curva Tarzan sugli avversari molto interessanti in particolare quello su Carlos Sainz Carlos Sainz riesce a rimediare a una parte iniziale di stagione veramente orrenda ma complice al fatto che l'Alpine di fatto è la quinta barra sesta forza del campionato mondiale e con una gara un po' pazza un po' con costruzione di sorpassi molto belli ricordo appunto il sorpasso all'esterno in Cova Tarzan su Carlos Sainz Gasly fa un podio molto importante per il morale e per l'Alpine Gasly in terza posizione in una gara vera di fatto va a conquistare il secondo podio della stagione completa se contiamo il terzo posto della gara sprint del Belgio quindi è un Nord Europa che porta bene al pilota francese ma comunque per i sorpassi costruiti, la grande gara e appunto essere stato anche fortunato a trovarsi nel momento giusto al posto giusto Gasly si merita il premio di driver del giorno senza se e senza ma è sempre un buongiorno per ricordare che appunto senza Verstappen sarebbe comunque un campionato molto più competitivo perché tantissimi piloti si sono dati battaglia per le posizioni evidentemente che contavano quindi podio e zona punti una zona punti che prende Sergio Perez ma con rammarico Perez poteva fare un podio evidentemente in scioltezza ma complici anche errori in parte suoi vedi il limite di velocità in pit lane e in parte anche il fatto che nel pit stop uno dei pit stop meglio non gli sono arrivate le gomme letteralmente un po' che mi ha capitato a Charles Leclerc con la Ferrari e ovviamente va lunga una Red Bull va lunga quella di Sergio Perez perché figuriamoci capita qualcosa a Max Verstappen in quinta posizione Carlos Sainz che è un quinto posto in realtà molto amaro perché Sainz non aveva il passo secondo me per arrivare a puntare a qualcosa di più è stato comunque abile nel suo piccolo arrivare in questa posizione in quinta posizione sesto Louis Hamilton che invece compie una gara di rimonta Hamilton partiva a tredicesimo ovviamente poteva lottare con Carlos Sainz ma anche lui non ne aveva la Mercedes in questa gara di Zandvoort ha sempre fatto molta fatica Russell si è ritirato Hamilton è arrivato sesto insomma non una posizione interessante per la scuderia tedesca in settima posizione Lando Norris per un'altra scuderia che qui ha deluso ovvero la Mia McLaren Norris diciamo sembrava lanciatissimo verso quantomeno infastidire le posizioni del podio nelle gare prima del Belgio e invece sia in Belgio che in Olanda conferma una settima posizione ma veramente con tanti rimpianti la McLaren ha fatto un'ottima qualificazione ma una gara veramente del gambero ottavo Alexander Albon che ha fatto già il suo in qualificazione arrivando quarto e dimostrando anche una volta che la Williams in questa fatta della stagione è in crisi ed è una squadra che può minare secondo me la zona punti con una certa costanza quantomeno con l'anglo-tailandese Surgent era a fare una ottima gara ma purtroppo si è rifiato causa appunto uno scontro con il muro ma comunque ottima gara per Alexander Albon nono per quanto riguarda la gara di Zandvoort e Oscar Piastri che comunque i punti li porta a casa con la seconda McLaren e la seconda Alpine completa la top 10 con Esteban Ocon che comunque conferma di essere un buonissimo pilota da zona punti anche in questa occasione Ocon è stato l'unico ad azzardare le gomme wet prima che mettessero la bandiera rossa lui un po' sfordato in questo momento secondo me qualche posizione in più la poteva sicuramente guadagnare è un gran piano di Zandvoort che comunque regala emozioni dal punto di vista delle strategie strane perché il povero Charles Leclerc si ritrova anche una volta cornuto e mazziato perché non solo gli si rovina la macchina nel primo giro con un contatto appunto con Oscar Piastri ma appunto la gara gli viene di fatto compromessa anche dal pit stop lento avvenuto nel mettere le gomme intermedie Leclerc ha perso un'eternità perché al muretto Ferrari non trovavano le gomme appunto stessa cosa che è successa Sergio Perez con la Red Bull segno che queste condizioni un po' miste e un po' anche la chiamata tardiva di entrambi i piloti soprattutto le che l'ha dichiarato lui evidentemente ha condizionato anche un po' il muretto che comunque sempre ce ne mette del suo peccato perché comunque la Ferrari poteva con il jolly provare ad azzare quel podio che secondo me poteva ampiamente meritare quantomeno una delle due vetture invece il podio l'ha preso Pierre Gasly peraltro in maniera parecchio meritata notizie invece per quanto riguarda il paddo che abbiamo avuto un esordio in questo GP di Zandvoort per la Conaca ha esordito il mio idolo Liam Lawson uno dei piloti che ho seguito con più attenzione nelle categorie propedeutiche Lawson era uno dei piloti di riserva della Red Bull e di fatto lui è la riserva della riserva perché sappiamo che Daniel Ricciardo si è infortunato al polso sinistro si è fratturato al polso sinistro meglio il pilota australiano salterà anche il GP di Monza dunque Lawson avrà modo di ricominciare una nuova avventura in Formula 1 full time perché appunto è stato chiamato letteralmente il sabato Lawson e quindi con una prova libera una qualificazione e una gara è arrivato tredicesimo battendo anche Yuki Tsunoda quindi buonissimo esordio secondo me per Liam Lawson che spero mi auguro possa confermare se non migliorare queste prestazioni in quel di Monza se volete sapere perché Lawson mi sta così simpatico un po' perché appunto in Formula 2 è uno dei miei piloti preferiti e un po' perché appunto nel gioco dell'anno scorso nel F1 22 era il mio compagno di squadra della scuderia Titano squadra corse della carriera che ho fatto per vie private vedremo Lawson e tutti gli altri piloti tra una settimana a Monza vedremo anche la Formula 2 in quella del circuito Brianzolo una Formula 2 che anche qui a Zanvort ha regalato evidentemente delle emozioni la prima nella gara sprint ed è una soltanto diciamo situazione spettacolare e basta grave incidente tra le due vetture del Team Campus nella sprint race Boshung e Cushmeni vengono al contatto la vettura del pilota svizzero finisce di fatto sotto quella del pilota indiano per fortuna nessuna conseguenza in una gara definita anche qui bagnata e mai corsa perché a differenza della Formula 1 che ha ripreso la gara la Formula 2 per la grande pioggia che ha avuto il sabato non ha poi ripreso evidentemente la competizione dunque nessun punto assegnato in gara sprint soltanto una corsa effettuata nel weekend olandese ed è quella feature vinta da Clement Novalac vittoria a sorpresa per il pilota francese del Team Trident che era infondissimo in classifica e la gara del riscatto per il pilota francese perché evidentemente aveva soltanto due punti prima di oggi il pilota del Team Trident invece con una buona gara di strategia riesce evidentemente ad avere la meglio sugli avversari in una gara che in Formula 2 ha evidentemente azzerato le possibilità di prendere punti dei primi quattro in classifica perché per una balla o quell'altra Purcher Vesti Ouazà e Jacques Duan non prendono punti Purcher e Vesti si ritirano in modo abbastanza inspiegabile Purcher dopo il pitstop per esempio va a muro e fa zero Vesti nel pitstop appena uscito dai box si gira perde due ruote e si deve ritirare Ouazà fa una gara orrenda finisce tredicesimo Duan neanche parte poteva approfittarne Victor Martins ma finisce soltanto non insomma una Formula 2 che di fatto fa accadere di tutto ma in alto in classifica di fatto non cambia niente tutta gioia per Clement Novalac che è l'unica gara che dà punti evidentemente si riscatta e torna sul podio dopo esserci stato in realtà nella gara sprint di Austria ma è stato squalificato e qui è un unplan per il pilota francese per il quale suona la Marsigliese vittoria il giro veloce 28 punti per Clement Novalac che ne aveva soltanto due evidentemente presi nella gara di Bac il cestativo posto per il pilota francese del team Trident podio completato dal Barbadiano altro ridere delle folle Zay Maloni in seconda posizione quindi podio per il pilota del Red Bull Junior Team che non saliva sul podio della gara di Silverstone e terza posizione invece per Jack Crawford altro pilota del Red Bull Junior Team questa volta il pilota americano corre per il team Hitek per un campionato di Formula 2 che avrà ancora due grandi eventi al termine quindi Monza settimana prossima e Abu Dhabi a fine novembre mentre a Monza tornerà anche la Formula 3 che invece lì concluderà evidentemente le proprie ospedità con Gabriel Boltoretto nettamente favorito qui invece la lotta di fatto rimane sempre tra i primi 4-5 piloti probabilmente in 6 sono ancora matematicamente in lotta per la vittoria ma i più aiutati sono il francese di Sauber Junior Team Theo Purcher che corre invece per il team Art e Fredrik Vesti pilota della Mercedes Junior Team che corre invece con il team Prema vedremo se Monza sarà il riscatto di entrambi i piloti ma dovremo aspettare dunque evidentemente una settimana questo dunque resta in patria per quanto riguarda il GP di Olanda per quanto riguarda Formula 2 e Formula 3 vi lascio con la classifica della Formula 1 con la nona sinfonia consecutiva di Max Verstappen che è uguale al record di Sebastian Vettel di vittorie consecutive sempre sulla stessa macchina la Red Bull il prossimo video sul canale invece uscirà il primo di settembre ma parleremo invece di baseball per introdurre l'ultimo mese di stagione regolare e saluto da parte di Matthew Torgard ci vediamo al prossimo video